Nulla è così commovente come il fatto che Dio si sia fatto uomo per accompagnare il cammino faticoso di ognuno di noi verso il proprio destino, alla ricerca del senso della vita, verso Dio, verso la felicità. Ecco, Dio si è fatto uomo per accompagnare il cammino faticoso di ognuno di noi. Ogni giorno si avvicina a noi attraverso tutte le circostanze, ma in modo unico attraverso la lettura, la proclamazione, anzi, del Vangelo del giorno in tutte le chiese. Ma chi c'è nelle chiese? Io, dall'esperienza mia di prete di vent'anni, a maggior parte, ogni giorno ci sono quattro vecchiettine, qualcuno per qualche circostanza e niente di più. con gli altri, cosa facciamo? Allora, usiamo anche internet, questi mezzi, per sentire questa parola di Gesù che è una meraviglia. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani, cioè mezzi mafiosi, si avvicinano a Gesù e i peccatori. Oggi alle chiese non si avvicinano né i mafiosi, né le delinquenti, né i peccatori, mannaggia, stanno lontani. Per ascoltarlo, perché Gesù non aveva parole di rimprovero. I farisei gli scrivono, persone, per bene, eh? Mormoravano dicendo, è sempre mormora. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro, mannaggia la miseria. Ed egli disse loro questa parabola, chi di voi se ha cento pecore e ne perde una, non nasce, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Chi di voi? Ecco, quando la trovate, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore, uno solo, c'è un miliardo di persone, ma la gioia in cielo è per un solo peccatore, mannaggia, è meraviglia. Un solo peccatore che si converte, più che per novantanove è giusto, che sono pesante, tanti giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Ecco, perché c'è questa gioia in cielo? Perché quando c'è qualcuno che ne ha combinate di grosse e si converte, si rende conto, riconosce i propri errori, i propri sbagli, che ha fatto per mancanza di conoscenza, in dialetto si dice chi non può pigliare l'irto piglia l'upennino, chi non riesce a salire prende la discesa. Ecco, non è che si fa male per il male, c'è gioia perché Dio fa il suo mestiere. Ecco, noi non permettiamo a Dio di fare il suo mestiere, il mestiere di padre buono, misericordioso. Allora speriamo che oggi nel mondo ci sia qualcuno, anche uno solo in tutto questo mondo, che permetta a Dio di fare il suo mestiere. Padre buono di misericordia. Speriamo che qualcuno incontri Gesù Cristo attraverso qualche testimone e lo accolga e si sciolga. Una santa giornata, carissimi amici.